Mirza è arrivata un'altra vittoria a Casalinga, siete riusciti a fermare anche Nardò che è arrivata da 7 vittorie consecutive, 79 a 57 risultato finale, una grande prova difensiva anche. Siamo stati molto bravi oggi, però anche Nardò è stata molto brava, perché fino all'ultimo credo non ha mai molato un colpo, infatti magari 22 punti, forse un po' per come hanno giocato, magari sono un po' tanti, però avevano due giocatori che mancavano, però secondo me oggi è stata veramente una grandissima prova difensiva della squadra, abbiamo sbagliato veramente poco. A parte tre azioni, abbiamo imposto tre bombe alla fine e gli abbiamo fatto un po' rientrare, però per il resto direi che comunque 57 punti, direi perfetto. 18 punti per te è anche un momento chiave dove hai preso la squadra tra le mani e abbiamo visto anche come ti piace anche un po' riscaldare il pubblico. Ma sì, nel senso, cerco di aspettare il mio momento, è una squadra comunque piena di talento, con tantissimi giocatori veramente forti, quindi se siamo bravi a aspettare ognuno di noi il nostro momento, secondo me è una squadra che comunque può girare sempre a punti elevatissimi. Quindi sì, mi piace comunque anche cercare di incitare il pubblico, però comunque bisogna ringraziarli perché comunque in casa non abbiamo ancora mai perso e merito va anche a loro, perché comunque sono sempre presenti, sempre che ci incitano, quindi avanti tutta. Hai parlato di una squadra di talento, oggi davvero tutti coinvolti, tutti i protagonisti, da anche Jacopo Vedovato a Gianmarco Arletti che sono riusciti a ritagliarsi un po' più di spazio, ma davvero la lista è lunga. No, ma soprattutto perché comunque hanno giocato in momenti importanti della partita, non a partita finita, quindi Jacopo e Gianmarco sono veramente bravi, soprattutto in difesa, perché comunque in un roster così di tanti giocatori, se sono pronti in difesa poi dopo possono ritagliarsi più minuti e avere più chance. E credo che comunque sono stati molto bravi, come hanno stato bravi ovviamente tutti. Turno infrasettimanale, mercoledì si va a Piacenza, un'altra partita molto tosta, c'è una differenza canestri da mantenere e due punti da guadagnare per mantenere questa corsa. Partita veramente difficilissima, Piacenza comunque da anni che ha tanti giocatori nel roster, quindi si conoscono veramente bene e mi ricordo comunque l'andata, non è stata molto semplice la gara, quindi figurati in trasferta. Però noi facciamo un giorno alla volta, una partita alla volta, quindi ora pensiamo solo a riposarci, recuperare le energie e saremo sicuramente pronti.